Io ogni anno, quest'anno, non ho potuto per via del Covid in Senegal, ma qui mi sembra che la situazione è quasi peggio. Nelle parole di Don Pier Giorgio Baronti, parroco di Sant'Angelo, a Bottegone, traspare tutta la frustrazione della gente della frazione pistoghiese, da mesi impegnata nella lotta per avere un nuovo medico. Mi sembra impossibile che non si possa avere quei medici necessari per venire incontro a quella popolazione, a tutta la popolazione. Il pensionamento a dicembre di uno dei dottori del paese ha lasciato sgomenti circa 1.500 mutuati. La ricerca, per ora vana di un sostituto, ha così spinto la popolazione ad avviare una raccolta di firme. Questa petizione è indirizzata al sindaco, al presidente, all'ordine dei medici e chiediamo un medico o più di uno per il nostro paese, per il Bottegone. Sul tema, nei giorni scorsi, l'ASL si era espressa rassicurando la popolazione e spiegando che per l'affinamento dell'incarico proporrà il vincolo a chi sarà nominato ad aprire un ambulatorio a Bottegone. In molti, nel frattempo, hanno però scelto un nuovo dottore, ma lontano da casa, in mezzo a tanti disagi, in particolare per gli anziani. Abbiamo tutta una certa età, io ne ho tanti, ne ho 83, da qui avanti non posso più prendere neanche l'autobus per poter andare. I timori della gente sono però anche per il futuro, altri medici del paese nei prossimi anni dovrebbero andare in pensione. Qui c'è 10.000 persone, questo potrebbe essere tranquillamente un comune e mancando 3-4 medici veramente c'è bisogno, c'è un'esigenza veramente reale. Mi permetto di chiedere come cittadino che sia attivato anche un ambulatorio pediatrico, questa è una zona dove c'è una forte immigrazione con famiglie che vengono dall'Albania, ma vengono anche dal Marocco, con tanti bambini, quindi è importante anche la presenza di un pediatra sulla zona. Invece di dover obbligare i medici a venire a Bottegone proviamo a creare le condizioni per cui i medici vogliono venire a Bottegone, magari andando a amplificare, a aumentare i servizi anche del distretto ASL qui a Bottegone che negli anni sono stati molto ridotti. Quindi andando a intervenire lì e magari poi appunto nella struttura lì accanto che poi il comune dovrà andare a rifare, magari, non lo so, penso a alcuni ambulatori nuovi per giovani medici che magari nel centro città non potrebbero non trovare spazio, che comunque potrebbero qui a Bottegone trovare dei vantaggi sotto più punti di vista.